L'academia del Jogsura ha esistito in un paio 1323, la subrega e il compagno dei 7 troubadors di Toulouse, fondato sul troubar, sul troubar del Bertadiez Troubadors. Lui che l'hanno fondato erano delle persone di Toulouse, delle persone importanti nella società toulusana, che scrivono anche delle poesie, delle copse. È così a Toulouse che si inventa un viaggio originale di recompensare i troubadors, che venivano a presentare le cose, e li ballano un flù, che è un giugno, che si rende precioso. Per un poeta non lo savi, per un poeta occita è la legittimazione di una arte. L'academia del Jogsura ha stato fondato per assegurare e per rendire l'usaggio poético della lingua nostra. Era la decisione, iniziato da Toulouse, di salvaguardare la pratica del troubad. In alcune condizioni tematici, forse o Malaesia, però l'utroba europea per cantare la fenda, e l'uscurazione, ci siamo iniziati a cantare chi che si è mai, che è il Santo Belgio, che non è ancora ancora per il guida l'urdo. Ecco che ci porta il grande ruolo, il mio missione di Capta del Mondo, è di tornare a reforire la poesia, di preparare, di scoprire la poesia del Gascun, la poesia del Lenco di Nusta, che è molto importante andare dappertutto, che sono dentro come delle piccole abeole, finalmente, che da l'academia partono e promuovere dappertutto la poesia. A pedire tutti gli scrivori della lingua occitana, tutte le scrivori della lingua occitana, che Paolino Camacchino non sa mai che dormi, a partecipare, per dire di noi, che faremo fieri e mostrare cosa sanno fare. se ci sono che i miei timidi scrivono di causa timidotto, mostraremo una poesia timidotta. Se abbiamo di portare texti di letteratura, platenguto, per discutire qui è il meglio, i che mostraremo sarà la nostra fiertà. E la fiertà poetica dell'Occitania è la carta d'identità. Grazie. 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 Grazie.